Grazie a tutti. Peccato, può lasciare un numero? Se lo può segnare? Sono Beppe Grillo. Non c'è la signora? Non c'è nessuno? Sono andato a fare il testimone al processo, volevo due parole da lui da mettere sul mio blog. Se mi può chiamare urgentemente che ho qualcosa da dirgli. Grazie. Grazie. Grazie.